Già pronta in casa della Juve Stabia la festa per la Serie B, le Vespe hanno infatti a 5 giornate dalla fine del campionato un vantaggio di 9 punti sul Benevento II. Sabato però in caso di vittoria e con la sconfitta dei giallorossi non festeggerebbero ancora la matematica promozione. Infatti arriverebbero lo scontro diretto proprio con le streghe con 4 partite al termine della stagione e 12 punti di vantaggio. Sarebbe così tutto rimandato al Big Match in programma dall'8 aprile proprio in casa del Benevento. Juve Stabia che si appresta quindi a vincere un campionato tendenzialmente dominato come ci riportano i dati. I gialloblu hanno perso soltanto tre partite mai contro dirette avversarie. Vantano inoltre la miglior difesa del campionato con soli 19 gol incassati. In Italia ne hanno subiti meno solo Inter e Cesena. Bene anche in attacco dove grazie ai gol del giovane Adorante arrivato in prestito a gennaio dalla Triestina e dal bomber Candellone hanno fatto registrare per il momento il secondo miglior attacco del girone dietro solo a Lavellino. Un mix tra giocatori più e meno esperti guidato da Guido Paiuca un allenatore giovane e coraggioso ha fatto sì che la Juve Stabia si trasformasse quindi da outsider a regina del girone C. Viceversa il Benevento per tenere saldo il secondo posto dovrà fare il risultato contro Monterosi, Latina e Catania oltre ad affrontare le difficili sfide che la vedranno impegnata prima in trasferta a Castellammare di Stabia successivamente ad Avellino con i lupi che inseguono distanti solamente 4 punti.